benvenuti in questo mio nuovo video andiamo a vedere come completare la sfida fai un punteggio con i trick con un drift board con i neon tropicali applicati adesso questa è la copertura neon tropicale noi semplicemente dobbiamo trovare un drift board ad esempio la posizione è questa qua mi raccomando per finire la sfida dovete applicare la copertura neon tropicale eccoli la quelli sono i drift board ad esempio qui ce n'è uno abbiamo la copertura neon tropicale e bisogna fare un punteggio ad esempio noi facciamo ricaricare la barra saltiamo facciamo così e otteniamo un punteggio perfetto si completa la sfida comunque spero che questo video ti sia piaciuto se così iscriviti al canale per restare sempre aggiornato su fortnite lascia un mi piace per supportarmi commenta e condividi noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi